C'ho la voce da uomo, che devo fa? Io il mio primo, vi, 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 vai, vai Eh sì Ma ho sentito il suo rumore? Ma che è? E vale davvero la pena Un tuono, paura Ciao, ciovani Ma vi rendete conto che io non ho mai fatto un video outfit? Ma che youtuber femminuccia sono, eh? E siccome qui non se famo manca niente Oggi, per la gioia e per il giubilo dei maschietti Il mio primo video outfit Oh mio Dio, che coglioni Che è un video outfit? Magari qualche maschietto non lo sa Un video outfit è un video in cui io te faccio vedere come me so vestita Perché, boh, vedate in consiglio Per fatte vedere la mia sexitudine Per chi è un c***o da fare? Comunque, oggi ronsolato un po' in giro per il tubo In cerca di ispirazione dalle guru esperte Che sono veterane in materia E ho notato che le occasioni per le quali i nostri beauty guru ci suggeriscono outfit Concedetemelo, sono un po', come dire, repetitive Antuno, inverno, primavera, estate Rock chic, stock chic, stop chic Bon tom, tom tom, bon bon Minigonna sexy Pantalone sexy Tutta da palombaro sexy Gonna della nanfertrita di minonna sexy Carino Però stavo a pensare insomma che ci stanno pure delle situazioni più comuni, diciamo A cui in se pensa mai In cui poi a fine uno non sa mai come vestisse Uno pia i primi stracci, si mette addosso e va Non ci siamo, non va bene, ci vuole griderio Perciò, amica casa, io ti propongo un outfit fondamentale per le tue giornate Resta con me, amica E gustati l'outfit Panna butta la monnezza Certe volte, può capitare di sentire degli strani odori dentro casa Ma che è sta buzza? Potrebbe dipendere da svariati fattori Delle calzature stagionate ad esempio Una dimenticanza nella stanza più importante della casa Un frigorifero visitato di rado con attenzione O una cucina che sta per farvi saltare in aria Ma potrebbe anche darsi che sia la monnezza La monnezza alberga in casa vostra da settimane Ed è proprio giunto il momento di andarla a buttare Ma come vestirsi per andare a buttare l'immondizia? La mia proposta è un outfit elegante e ricercato Che abbina i colori in maniera intelligente Iniziamo con questa favolosa felpina La suddetta felpina originariamente era di un tenero rosa pallido Ma con un lavaggio andato a merda È diventata di un disgustoso azzurrino crigiognolo Che sarà il vostro compagno ideale A braccetto con dei sacchi da monnezza Notate il dettaglio dei cordini Non è adorabile? Assolutamente Per non parlare di questa raffinata cerniera deplastica Che è rimasta rosa Perché se vede che sulla plastica sto bel colore non ha attaccato Il ciondolino scrostato Un dettaglio sulla manica Due macchie d'enza sa de che Ed ecco le taschine arricciate Guardate che carine Guardate che comodità Per rendere tutto più confortevole E sotto la felpina in un tocco davvero di classe La splendida maglia dei Muse Questa l'ho comprata al primo concerto dei Muse che me so fatta Tipo dieci anni fa Come potete vedere La particolarità della vissutaggine di questa maglia È la scritta del nome del gruppo Scrostata Che rende tutto una cifra più d'esperienza Una cifra più corposo Affascinante Ma passiamo all'abbinamento di colore perfetto Questo bel pantalone de pile infeltrito Rosso foco Perché il rosso dà un tocco di vitalità Un tocco di gioia Porta giusta monnezza È de pile Quindi è molto molto caldo E proteggerà con cura i vostri cosciotti de pollo L'infeltrito serve a ricordarci Che non stiamo certo andando alla scala L'elasticone in vita giro a scella È il tocco raffinato che non ti aspetti È quella cosa che lo rende comodo e intraprendenti E adesso passiamo al dettaglio delle scarpe E chiaramente quando andate di fretta Perché avete dimenticato di buttare l'immondizia E dovete catacollarvi giù per evitare Che casa vostra rimanga una discarica Ci vogliono un paio di scarpe Frizzanti, fresche, vivaci Che vi accompagnino con comodità Che cosa c'è? Di più indicato De un paio di adorabili pantofole a scacchi rosa Belle vissute Belle consumate Con questo colore un po' così Che ha morte sua col pantalone rosso Favolose pantofole Regalo dei botteghe verde E con un acquisto di 5 euro E 1,75 euro di contributo Un vero affare ragazze Per un oggetto così chic Vogliamo andare solo con un paio di pantofole Non vogliamo guarnirle Con dei magnifici carzettoni di lana Ficcati dentro la pantofola E sopra il pantalone Perché solo così vi terranno veramente caldo E nessuno spiffero passerà A congelarvi i peli intrizziti Che non vi siete fatte perché è inverno E l'unica relazione che avete E con il barattolo di Nutella il sabato sera A questo punto vi consiglio di accipolare i capelli Perché andremo a fare una cosa molto importante Ovvero passare al make-up Questa povera disperata Che vi mostrerà come fare In realtà l'abbiamo truccata Per evitare che qualcuno crepasse De infarto nella visione del video Ma presumibilmente Se dovete andare a buttare un nezzo Sarete struccate E se non volete proprio scendere Come mamma vi ha fatto Adesso vi svelerò un segreto Per risolvere il problema In meno di un minuto ragazze Vi basterà prendere semplicemente Una busta di carta Proprio come questa Quella con cui andate a fare la spesa amiche Di plastica è sconsigliabile Potreste morire soffocate pescale Ecco la nostra modella Che si posiziona in testa la busta Come vedete Ci vuole meno di un minuto Ma Oh Magari è il caso di farci due buchi Per guardare dove c***o vai Ecco Fantastico Così va molto meglio Ora indossate la vostra meravigliosa busta Con i buchi sugli occhi Prendete tutta l'immondizia Che vi impera in casa E siete pronte Per andarla a buttare Pregando Dio De non incontrare qualche vicino Ma manco il barbone Che vive fuori dal portone Guarda Mamma mia Mamma mia Amica Questa era la mia proposta per oggi Se hai bisogno di un consiglio Per un outfit particolare Qualcosa di stravagante Qualcosa di a c***o di cane Lasciami un commento Ed io dalla sommità Della mia esperienza Pecoreccia Ti aiuterò a creare I migliori avvitamenti Per qualsiasi occasione Che Enzo Miccio Mi spiccia a casa Molto bene Grazie per aver visto Questo video demenziale Infine voglio consigliarvi La pagina facebook Di una disegnatrice speciale È una ragazza giovanissima Che si chiama Arianna Ho conosciuto Arianna Quest'estate a Lecce Anche se lei è di Tarquinia Vi lascio il link Della sua pagina facebook Nell'info box Perché Arianna Ha davvero una mano stupenda È bravissima E vale veramente la pena Di andare a rifarsi gli occhi Con le sue illustrazioni Ti mando un bacio Arianna Ciao Noi ci vediamo settimana prossima Con un nuovo video Ciao 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 Ciao